Riqualificazione del Waterfront di via Elorina, partita per lo sviluppo vero di Siracusa. Nel futuro di Siracusa non può che esserci la riqualificazione del Waterfront di via Elorina con la parziale smilitarizzazione della grande area dell'aeronautica. Fin qui l'amministrazione comunale si è mossa con timidezza senza pressare e incidere sulla difesa. Eppure l'occasione storica dei fondi del PNRR e la disponibilità di idee progettuali per realizzare strade, parcheggi e aree a servizio pubblico avrebbero invitato maggiore incensività su questo tema, ieri e non oggi. Lo sviluppo e la crescita di Siracusa passano dalla realizzazione di questo sogno ampiamente condiviso dalla collettività siracusana che chiede una guida forte e decisa verso l'obiettivo. Già negli anni 90 prestigiosi urbanisti avevano indicato nella zona sud di Siracusa e in particolare via Elorina la linea a seguire per una armonica idea di sviluppo della città. Riqualificare quell'area oggi vietata alla città riguscirebbe anche il rapporto con la risorsa mare oggi non fruibile tra restrizioni militari e preesistenze private in abbandono. Mi chiedo cosa si sia atteso fino ad ora o si pensa che possa incidere una lettera a spotto inviata ogni tanto a questo o a quel ministero? Si domanda Renata aggiunta. A darle manforte il parlamentare siracusano Filippo Scerra nel Movimento 5 Stelle nelle settimane scorse aveva presentato un'apposita interrogazione parlamentare con cui ha nuovamente portato all'attenzione del ministro della difesa l'importante vicenda. Purtroppo tarda ad arrivare la risposta. Con i miei uffici continuiamo in perterri di abusare alle porte della difesa. La rifunzionalizzazione in chiave pubblica dell'area di Via Lorina è necessaria. Si badi bene, nessuno deve avere dubbi sul mantenimento di un presidio in Via Lorina nel rispetto della storia del 34esimo gruppo Radar. Sul resto della grande area però è arrivato il momento di progettare e realizzare il futuro di Siracusa aprendo la città a nuove enormi opportunità di sviluppo. Grazie. Grazie. Grazie.